Assessore all'innovazione Domenico Camardo, da oggi il Comune di Sesto Fiorentino è ancora più trasparente, ci sono ancora più dati a disposizione del cittadino? Sì, questo è vero, anche se il decreto legge del 83 del 2012 ce lo impone, la trasparenza nella pubblica amministrazione con l'articolo 18 diventa in questa maniera un'amministrazione ancora più aperta, dove tutti i dati relativi ai vari finanziamenti, al di là del motivo per cui si erogano, sono a disposizione sia del pubblico, quindi del cittadino comune, sia degli enti che ne hanno diritto, come in questo caso.